Come ho detto anche nel mio canale YouTube, in questi casi non c'è niente da dire, niente. Perché mi sono già espresso a riguardo, non si può morire comunque a 19-18 anni attraversando sulle strisce. L'ho detto perché io ero presente quando mio padre, tre anni fa, è stato investito in pieno centro urbano, Siracusa, strada normalissima, attraversa appunto le strisce. Ho letto in quel tratto di strada a Catania dove va appunto a succedere una cosa del genere per prendere poi dei provvedimenti, perché è sempre così. I provvedimenti un po' dappertutto vengono presi solo dopo che ci scappa il morto, solo che non si può accettare che il morto è una persona così giovane, cioè una persona che aveva tanti progetti, come leggevo, cioè non si può accettare assolutamente, ma qualsiasi persona, anche se era una persona più grande, cioè non si può che tu stai attraversando la strada sulle strisce, cioè nel rispetto delle norme e viene ucciso. Cioè è una cosa veramente che lascia senza parole, senza parole. Domani ci sarà l'ultimo saluto. Io veramente non... Nei panni dei familiari di questa povera ragazza io proprio veramente, cioè non... No comment proprio, riposo in pace al piccolo Angelo.